ha 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 baby tv kenny guri dove siete? kenny ti ho visto ma dov'è guri? ciao guri kenny e guri ehi ma cosa state bisbigliando? voglio saperlo oh è una sorpresa bene adoro le sorprese ok sono pronto un rubinetto la sorpresa è questa è molto strano lo so che cos'è è uno shampoo chissà cosa sarà guri adesso cosa tiri fuori dal marsupio un asciugamani chissà cosa servirà e adesso kenny tocca a te tirar fuori qualcosa dal marsupio credo di aver capito di che cosa si tratta lo sapevo lo sapevo era facile una vasca da bagno ora possiamo riempire la vasca d'acqua e fare un bagno fantastico che bella sorpresa aspettate guri kenny dove state saltellando? oh che peccato il gioco è terminato ciao guri ciao kenny ciao guri e kenny ci vediamo domani per giocare ancora ciao Grazie a tutti!